Le misure giuste al momento giusto. Questo è il messaggio di Christine Lagarde durante l'intervento all'Europarlamento a Strasburgo. La Presidente della Banca Centrale Europea ha riconosciuto che l'inflazione è aumentata bruscamente negli ultimi mesi, in modo particolare a gennaio, ma ha garantito una stabilità dei prezzi a medio termine. Resteremo attenti ai dati in arrivo e analizzeremo le implicazioni delle prospettive di inflazione a medio termine, ha dichiarato Lagarde davanti all'emiciclo. Si tratta di parametri chiave nella nostra forward guidance. Un aumento dei tassi non avverrà prima della fine degli acquisti netti di asset. Prima dell'intervento davanti agli eurodeputati, Lagarde aveva incontrato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la Presidente del Parlamento Roberta Mezzola per celebrare i primi vent'anni dell'euro.